Ciao Paolo, che cosa stai mangiando? Il mio cioccolato preferito. Cioccolato Kinder? Ma è per bambini. Certo che è per bambini, ma è meglio anche per noi. Provalo. Kinder Cioccolato, ora anche nel formato maxi, è leggero, unico, con più latte e meno cacao. Allora? Mmm, buono questo Kinder Maxi. Ah, ma non era solo per bambini? Sì, sì, ma guarda che un cioccolato così va bene per tutti. Kinder Cioccolato Maxi.